che comunque i fiori gialli arancioni sa che si abbinano come colori e infatti dai va bene va bene va bene dai è vero è vero dai guarda quanti piccioni no no troppo bello quello ho fatto troppo bello oh è vero forse consuma più questo che quello è il rubinetto che ho a casa io aspetta sembra di fare galleria mazzini se vai lì sotto io sto facendo il video mi sono innamorata di sta villa ci vorrei vivere tutti ci vorrebbero vivere probabilmente che abbero enorme guarda questo qua guarda qua non dico che è grosso quanto quello che c'è vicino a casa di mia nonna però dico è enorme lo stesso che bei fiori comunque diceva guarda quanti piccioni ci sono in questa zona guarda la fontana è fatta da tre cavalli in più ci sono anche gli angeli no che dico siamo uno corvi in realtà ma tu sai che è quello lì della stemma che c'era lì su un sacco eh stavo per dirtelo oddio madonna quanti madonna quanti madonna quanti troppo bella sta villa bellissima più che altro più che è bella è enorme come per me girati troppo bello cioè il bello è che se vivessi qua avrei tanto posto dove giocare con i bambini che verrebbero qua è Nettuno quello che c'è sulla statua è Nettuno mi sa è sì mi sa ma credo ma almeno è un'ipotesi oddio mamma mia che prospettiva che c'è da qui c'è anche l'acqua no l'acqua no ne dubito si aspetta che intanto che ci sono faccio anche questa prospettiva mamma mia che sole aspetta mi sono dimenticata di fare la intro ciao a tutti e a tutti bentornati bentornati in un nuovo video blog non lo so a me in un nuovo blog ok in realtà sto registrando adesso ma in realtà questo video ve lo metterò alla fine perché mi sono dimenticata di fare il blog quando mai non mi dimentico io e Vale adesso stiamo prendendo il giardino di Villa del Principe che è enorme come potete vedere e c'è anche la fontana che l'acqua è tiepida devo ammetterla peccato che non posso farvela toccare se no mi brucia il cellulare allora io e Vale ci faremo una foto insieme io adesso vi mando un maccione e anche Vale e noi ci vediamo domani con un nuovo blog ciao saluta ciao